Chiesto ufficialmente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Salerno, la richiesta nell'interrogazione al Ministro dell'Interno del Senatore Antonio Iannone pubblicata questa mattina. In essa la preoccupazione manifestata alla Ministra Lamorgese per un condizionamento dell'azione amministrativa e dell'attuale maggioranza consigliare. Dalle indagini emergerebbe la totale inidoneità dell'attuale amministrazione a garantire la trasparenza e la legalità delle procedure ad evidenza pubblica indette per l'affidamento dei servizi che emergerebbe dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria che hanno portato tra gli altri all'arresto del Consigliere regionale Nino Savastano. Si legge sempre nell'interrogazione del Senatore di Fratelli d'Italia. L'11 ottobre scorso la città di Salerno è stata scossa dalla notizia dell'arresto oltre che del Consigliere regionale Savastano che ricopriva anche l'incarico di Assessore Comunale per le Politiche Sociali, anche dell'arresto del dirigente del settore Ambiente e del Comune Luca Caselli, mentre il Sindaco, l'architetto Vincenzo Napoli, è stato raggiunto da un avviso di garanzia. I gravi reati contestati attengono tutti ad appalti per la gestione del verde pubblico tramite affidi e cooperative sociali, i cui rappresentanti insieme ed esponenti dello staff del Sindaco sono stati tutti raggiunti da provvedimenti giudiziari. Il giorno 12 ottobre poi un nuovo provvedimento apposto agli arresti domiciliari rappresentanti di cooperative sociali che ai propri lavoratori chiedevano di sostenere alle elezioni amministrative di Salerno del 7 e 8 ottobre scorso candidati al Consiglio Comunale per la lista I Progressisti con Vincenzo Napoli candidato alla carica di Sindaco. Tra i candidati al Consiglio Comunale per la stessa lista figurava anche la moglie di uno degli arrestati, mentre la prima ordinanza riguardava le elezioni regionali del 2020, la seconda riguardava invece fatti relativi alle elezioni amministrative del 2021. La mortificazione del principio della libera concorrenza fra operatori economici che risulterebbe dalle intercettazioni non costituisce solo un vulnus al principio di legalità, scrive il senatore Iannone, ma anche il rischio che tali anomalie possano protrarsi nel tempo condizionando l'azione amministrativa dell'attuale maggioranza consigliare. Non a caso il provvedimento amministrativo di scioglimento ex articolo 143 del testo unico degli enti locali che il ministro dell'interno può proporre al presidente della Repubblica a natura preventiva più che sanzionatoria, non potendo essere finalizzato a censurare una condotta in assenza di una sentenza di condanna non ancora intervenuta, ma piuttosto a tutelare l'interesse pubblico dal pericolo di essere leso da condotte contra le gem che sembrerebbero essere già state poste in essere e che pertanto potrebbero essere reiterate. Lo scioglimento del Consiglio Comunale può essere legittimamente disposto anche per l'inadeguatezza degli organi di vertice politico-amministrativo a svolgere compiti di vigilanza e di controllo nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi appaltati dal Comune, ricorda Iannone, menzionando una sentenza del Tar del Lazio del settembre 2018, la numero 9544. Pertanto scrive il semplice rischio che il sistema degli appalti possa essere viziato sul piano della legittimità alla luce di quanto emerso nell'ordinanza applicativa di misure cautelari personali resa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno determina la sussistenza delle condizioni giuridiche per disporre lo scioglimento del Consiglio Comunale ex articolo 143 del testo unico. Con l'interrogazione si chiede di sapere pertanto se il ministro sia a conoscenza dei gravi fatti giudiziari e quale iniziative intende adottare in conseguenza di quello che emergerebbe chiaramente dalle intercettazioni con funzionari che sembrano agire inconsapevole di spregio della legge e in considerazione del fatto che a vincere le elezioni amministrative nella città di Salerno sia stata la stessa compagine politica, quale sia la sua posizione rispetto ad una nuova amministrazione in perfetta continuità con la precedente, quando calano le pesanti ombre di un contesto condizionato da atti amministrativi che configurerebbero le più gravi ipotesi di reato per chi dovrebbe servire la missione dell'interesse pubblico.